Il ritorno in zona gialla consentirà da lunedì di tornare a spostarsi liberamente in entrata e in uscita dai territori comunali. Fino al 15 giugno però è possibile tra le 5 e le 22 un solo spostamento una volta al giorno verso un'abitazione privata in un massimo di quattro persone oltre a minorenni e persone non autosufficienti conviventi. Con i negozi già aperti da lunedì via libera anche a ristoranti, bar, pub, gelaterie e pasticcerie con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto anche a cena nel rispetto degli orari del coprifuoco dunque con chiusura alle 22 e dei protocolli di sicurezza. L'apertura dei locali al chiuso solo a pranzo è invece fissata dal decreto al primo giugno. Senza limiti orari infine la ristorazione negli alberghi e nelle strutture ricettive. I centri commerciali resteranno chiusi nei weekend fino al 15 maggio. Lunedì è anche il giorno in cui riaprono i musei e sarà possibile assistere agli spettacoli in sale teatrali, sale da concerto, cinema, live club e in altri locali o spazi anche all'aperto. È obbligatoria la prenotazione dei posti a sedere e il rispetto di un metro di distanza tra gli spettatori ad eccezione dei conviventi. Sempre da lunedì si torna a fare qualsiasi tipo di sport all'aperto anche di squadra e di contatto ma senza poter utilizzare gli spogliatoi. Per la riapertura delle piscine all'aperto bisognerà attendere il 15 maggio mentre per le palestre il primo giugno. Restano invece vietate tutte le attività in sale da ballo, discoteche e feste private. Per evitare gli assembramenti da movi dai sindaci hanno la possibilità di disporre per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura di strade o piazze nei centri urbani. Nuove regole anche per la scuola. Infanzia, elementari e medie saranno in presenza al 100% mentre per le superiori la percentuale minima di studenti in presenza è del 70% fino a un massimo del 100%. In presenza anche esami e tesi di laurea nelle università dove viene suggerita l'attività didattica prioritariamente in presenza.